In calo l'affluenza dei votanti nei sette comuni interessati dalle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali e la scelta dei sindaci. Rispetto alle precedenti elezioni, infatti, si sono regati alle urne meno cittadini con 26.531 votanti per una percentuale del 50,9% su un totale di 52.754 elettori. Unica eccezione è quella che riguarda il comune di Sommatino, dove hanno votato 4.280 persone rispetto ai 10.923 aventi diritto, per una percentuale di affluenza del 39,18% rispetto al 36,70 delle elezioni precedenti. A Niscemi, unico comune dove si votava con il sistema proporzionale, si sono registrati 14.764 votanti rispetto ai 25.334 aventi diritto, con una percentuale del 58,28%, ma nelle precedenti elezioni il dato dell'affluenza era stato del 58,93%. Ad Acquaviva Platani hanno votato 587 persone su 3.087 aventi diritto, con una percentuale del 19,02% rispetto al 22,36% delle elezioni precedenti. Si tratta della più bassa percentuale di votanti in provincia in questa tornata elettorale. A Butera i votanti sono stati 2.763 su 5.744 aventi diritto, con una percentuale di affluenza alle urne del 48,10%, rispetto al 52,02% delle elezioni precedenti. A Campofranco il dato dei votanti si è attestato a 1.640 su 3.052 aventi diritto, con una percentuale del 53,74% rispetto al 64,89% del precedente turno elettorale. A Marianopoli i votanti sono stati 1.147 rispetto ai 2.081 aventi diritto, con una percentuale di affluenza che si è fermata al 55,12%, rispetto al 61,28% delle precedenti elezioni. A Resultano le cifre parlano di 1.350 votanti su 2.533 aventi diritto, con una percentuale del 53,30% rispetto al 56,18% delle elezioni precedenti.